Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, io di fronte alle notizie, alle immagini, alle non immagini che giungono da Gaza sono ormai distrutto, ho un dolore veramente fisico, morale fisico. Non riesco più a guardare alcuni post, non riesco a osservare alcune immagini perché il carico di violenza è troppo alto, anche perché lo sappiamo in questo ciclo terrorismo-guerra, guerra-terrorismo, in questo ciclo di violenza senza fine sono i civili ad essere uccisi, ammazzati, massacrati. Il numero di bambini morti supera veramente ormai le 3.000 unità per quanto riguarda i palestinesi ed erano centinaia e centinaia bambini morti durante l'attacco di Hamas. La striscia di Gaza è ora soggetta a delle operazioni di terra con tank, con cari armati, bombardamenti dall'alto, secondo le Nazioni Unite più nessun luogo è minimamente al sicuro, alcuni li trovate sull'avvenire di oggi, di sabato 28, alcuni prelati a Gaza, preti, dicono che non c'è veramente più nessun luogo, né chiese, né ospedali in cui ci si possa rifugiare. Dunque questa azione è terribile, un diritto internazionale, ci tornerò, ne parlerò in una prossima puntata, che era già abbastanza morto e sepolto in vent'anni di guerre illegali rispetto all'internazionale, e ancora più morto e ancora più sepolto. Mi appello allora ancora una volta a una grammatica politica, cerchiamo di fare chiarezza almeno intorno a alcuni termini per provare ad orientarci, almeno a capire. Poi ognuno di noi porterà avanti il lutto, porterà avanti le proprie convinzioni, le proprie idee, le proprie anche indifferenze, la propria scelta di campo. Io cerco di lavorare ancora una volta sui termini perché possono aiutarci. Si parla di genocidio dei palestinesi, io vorrei un attimo allora tornare su alcuni termini, fare alcune distinzioni che non tolgono nulla alla violenza di quanto sta accadendo, di quanto è accaduto in altre occasioni. Che cosa significa genocidio, cosa significa olocausto, cosa significa Shoah per arrivare al termine massacro. Ancora una volta, per il termine genocidio, partirei dal dizionario di politica di Bobbio, Matteucci e Pasquino. Nel significato la parola è curata da Giorgio Bianchi. Nel significato attuale il termine è stato usato per la prima volta nel 1944 da Lemkin per indicare la distruzione di massa di un gruppo etnico, nonché ogni progetto sistematico volto ad eliminare un qualunque aspetto fondamentale della cultura di un popolo. Così definito, il genocidio è antico quasi quanto la storia umana, ma solo dopo l'ultima guerra la comunità internazionale, agghiacciata dagli enormi crimini commessi dalla politica razzaia del nazismo, ha sentito la necessità di fissare delle norme di diritto internazionale contro tale reato. L'Assemblea dell'ONU nel 1946 dichiarò il genocidio definito come diniego del diritto all'esistenza di interi gruppi umani, un delitto del diritto delle genti in contrasto con lo spirito e i fini delle Nazioni Unite, delitto che il mondo civile condanna e dispose l'elaborazione di un progetto di convivenza in proposito. Quali elementi per definire il genocidio? Questo è importante. L'articolo 2 della Convenzione definisce, della Convenzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre del 1948, l'articolo 2 definisce il genocidio come segue. Per genocidio si intende, per genocidio si intende, un o qualsiasi degli atti seguenti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso in quanto tale. Uccisione dei membri del gruppo, attentato grave all'integrità fisica o mentale dei membri, sottomissione intenzionale dei gruppi a condizioni di esistenza diretta a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale, misure tendenti a impedire le nascite nell'ambito del gruppo, trasferimento forzato di fanciulli di gruppo in un altro gruppo. La Convenzione stabilisce in principio della responsabilità individuale delle persone che commettono atti di genocidio. Chi aderisce chiaramente alle Nazioni Unite deve opporsi a questo tipo di politica. Allora il genocidio come atto di sterminio, come atto tentativo di sterminio, di distruzione di massa di un gruppo etnico, di un popolo, e chiaramente quanto è accaduto agli ebrei ad opera dei nazisti e quanto è accaduto ai Rom, ai Sinti per mano dei nazisti e quanto è accaduto agli armeni per opera dei turchi durante la Prima Guerra Mondiale quando l'impero turco ottomano si sta sfaldando. Ed è quello che è accaduto in Rwanda nel 1994 tra Utu e Tuzzi. Abbiamo con certezza che questi siano dei genocidi perché c'era la volontà di cancellare, sterminare, annientare una comunità culturale, politica e dunque viene eliminato in quanto appartenente a quella comunità. Questo è il genocidio. Poi possono esistere genocidi parziali. Si pensa che quello operato in Congo ad opera del Belgio durante l'imperialismo fino ad 800 dal sovrano, dall'imperatore Leopoldo II sia un tentativo di genocidio perché gli abitanti del Congo, quelle tribù del Congo furono eliminati in maniera sistematica. Dunque, ripeto, non è questione di dire se mettiamo l'etichetta genocidio, se concettualizziamo tutto come genocidio più grave, è per cercare di capire la storia, per evitare questo uso indistinto delle parole. Le parole hanno un peso, hanno un significato. E dunque c'è un tentativo, forse, di genocidio. Gli storici ancora ci lavorano su questo perché il Congo ha eliminato in maniera forte, sistematica, gli abitanti del Congo, le tribù all'interno del Congo. Quello degli stati uniti d'America nei confronti dei nativi è, anche qua forse si parla di parziale genocidio, perché gli stati uniti d'America, che hanno ucciso 23 milioni di indiani, l'hanno fatto nell'espansione della frontiera e l'obiettivo era quello di inglobarli, non era quello di sterminare. Gli hanno sterminati perché hanno combattuto, dunque un massacro di indiani perché hanno combattuto, perché non hanno voluto accettare la nuova forma di vita, la nuova democrazia. Tocqueville, il geniale Tocqueville, nell'opera La democrazia in America, rimane basito dalla violenza con la quale gli americani uccidevano gli indiani, facendo parte con leggerezza, quasi con il sorriso, perché stavano espandendo uno Stato, anche la democrazia si combatteva, si uccideva, ma non per sterminarli in quanto tali, però quello che è avvenuto è uno sterminio. Dunque forse non possiamo usare la parola genocidio, forse perché non c'era la volontà precisa di eliminarli dalla faccia della terra, altri invece dicono che è talmente sistematico che possiamo usare la parola genocidio. Anche qua non è questo di schierarsi, il massacro rimane 13 milioni, per questo non usiamo il termine genocidio per la rivoluzione culturale di Mao Zedong, perché vengono uccise degli oppositori politici, non un'etnia, un gruppo in quanto tale, lo stesso per i deportati di Stalin e i gulag, non c'è il genocidio di un gruppo, di un gruppo, non c'è dunque la volontà di sterminare, dopo di che sono milioni, milioni, milioni di persone, abbiamo usato la parola massacro, usiamo la parola massacro. E così vale anche per gli amerindi, i maya, gli aztechi, vale per gli abitanti d'Inca dell'America Latina che furono massacrati, però non c'era la volontà degli spogli di genocidio, c'è un obiettivo ben preciso, una persecuzione finalizzata allo sterminio, all'ora di sradicare in maniera sistematica un popolo dei popoli. Certo, anche in questo caso, molti dicono che talmente la violenza, talmente furono i morti, che possiamo parlare di un progetto genocida e che torno sui termini. Allora dipende poi come li soppesiamo, se pensiamo che ci fosse quell'obiettivo di eliminare e sradicare quelle comunità in quanto tali eliminare quelle culture è un genocidio, altrimenti va bene la parola massacro e furono massacrati in maniera diretta con le guerre, con la violenza, indiretta con le malattie, 70-80 milioni di abitanti dell'America Latina. Questo è quanto. Dunque il genocidio è proprio questo progetto di sterminio di un gruppo etnico, religioso, in quanto tale etnico, un popolo, una razza, la razza non esiste, ma all'epoca venivano consigliate tali le differenze tra un popolo e l'altro, razziali, quando vuoi sterminarlo in quanto tale. Il caso che è più clamoroso, armeni, in quanto armeni, vanno eliminati e sterminati, gli ebrei in quanto ebrei e gli zingari e gli romi sinti. L'ebreo addirittura in ogni parte del mondo, secondo l'ideologia nazista, deve essere estirpato. Cosa sta accadendo in Palestina? L'inastice di Gaza è un genocidio? E qua le parole sono importanti. Vogliono sterminare i palestinesi in quanto tali ovunque? No, perché ci sono palestinesi che vivono in Israele e non vengono uccisi. Quelli che vivono in Israele, quelli che vivono in Giordania, non vengono sterminati, non vai ad attaccarli. Però vuoi sterminare quelli di nascite di Gaza? Non vuoi sterminare. Così dici, perché tu hai un progetto contro Hamas, vuoi sradicare Hamas, nel fare questo, però stai massacrando migliaia e migliaia di persone. Dunque, io il termine genocidio lo userei con cautela. Io personalmente non lo userei, userei la parola massacro, perché non c'è da parte del governo israeliano che sta facendo delle dedicazioni terribili, terribili, nel senso che distruggeremo l'arsia di Gaza, non lasceremo più nessun militante di Hamas, colpiremo pur di eliminare, sappiamo che colpiremo altri, ma lo faremo, le estirperemo una volta per tutti. Addirittura, ci sono stati ministri che hanno detto che di Gaza non rimarrà più nulla. Dunque, è genocidio? Per me no, ma è un massacro di una violenza mostruosa, perché, dico, non è genocidio, perché non c'è la volontà di estirpare i palestinesi in quanto tale. Dopodiché c'è stata un'occupazione, un apartheid evidente che dura da decenni e decenni. E il genocidio degli ebrei è quello di Hamas? No, perché Hamas non vuole uccidere tutti gli ebrei in quanto tali nel mondo o perseguitarli in quanto tali. C'è un terrorismo jihadista, criminale, assassino contro lo Stato di Israele, dunque contro gli ebrei. E Hamas ha nello Statuto la distruzione dello Stato di Israele. Torno a dire, parliamo di violenza e di crimini inauditi, cerchiamo di usare le parole in maniera appropriata, ne va del nostro rispetto, ne va della nostra dignità, trattiamoci come persone intelligenti, altrimenti non riusciamo veramente più fuori da polemiche stere. C'è un'altra parola importante che è scusatemi, olocausto, olocausto è una parola molto molto importante, deriva dal greco appunto olocaustos, che significa bruciare interamente, olo intero, appunto ocaustos poi bruciare, bruciare per intero, ed era appunto un'espressione greca che poi nella tradizione giudaica ha assunto l'idea della forma perfetta di sacrificio, i sacrifici di un brucio per intero era il sacrificio migliore. La parola schwa indica di fatto lo sterminio, la parola olocausto, scusate, indica la parola olocausto lo sterminio degli ebrei ad opera del Terzo Reich, del nazismo, ad opera del gruppo dirigente nazista, di Hitler e di tutti gli altri gerarchi e di tutti gli altri uomini che hanno collaborato con il nazismo. A un certo punto però questa parola olocausto che indica dunque lo sterminio degli ebrei è stata in parte accantonata o comunque rimessa in discussione e si è preferita la parola shoah che in ebraico vuol dire distruzione, vuol dire proprio una distruzione, una violenta distruzione del popolo ebraico in questo caso. Proprio per evitare quell'ambiguità che contiene il termine olocausto che cioè contiene l'aspetto del sacrificio perché se è un sacrificio è un sacrificio per cosa? Dà quasi una sorta di legittimazione nell'interpretazione del sacrificio ci siamo sacrificati questo sacrificio è stato indispensabile affinché avessimo uno stato affinché facessimo la volontà di qualcun altro realizzassimo il progetto di qualcun altro ci siamo immolati per il verbo per Dio sacrificio i sacrifici si fanno per qualcosa non è stato nessun sacrificio nessun sacrificio ma è stata una violenza inaudita da parte della Germania nazista dunque la parola Shoah distruzione è più adatta e più corretta per indicare quello che è stato appunto il violento progetto genocida del Terzo Reich e dunque oggi utilizziamo la parola Shoah io sto lavorando su questi termini anche in classe perché a gennaio del 23 al 29 gennaio sarò con la mia quinta G prima a Cracovia e poi a Auschwitz perché stiamo lavorando proprio con un'associazione che si chiama Comunità di Memoria sulla Shoah e non solo perché ci occupano poi anche degli omosessuali uccisi dei prigionieri politici sterminati dei Roma e dei Sinti un lavoro proprio sul progetto genocida e sul progetto violento di morte del Terzo Reich dunque abbiamo una parola da poter usare forse in questi giorni più che mai in maniera appropriata questa parola è usarla in maniera appropriata questa parola la parola è massacro quello che ha compiuto Hamas è un massacro di innocenti di civili quello che sta compiendo lo Stato di Israele è un massacro perché vengono uccisi migliaia e migliaia di civili rinchiusi appunto in poche decine poi di chilometri quadrati un massacro la storia è piena di massacri la storia sembra essere ripetersi costanti di massacri dedicherò una lezione alla filosofia della storia rispetto ai massacri ragionando su la città di Dio la città appunto terrena di Dio e di Agostino ragionando su Vico su Hegel su sugli illuministi su con Marx con Schopenhauer dedicherò una lezione al tema della storia la storia violenta che si ripete però oggi ho dovuto mettere alcuni puntini sull'I olocausto Shoah massacro genocidio sono tutte parole diverse impariamo ad utilizzarle in maniera più corretta possibile certo in questo momento parlare di parole può sembrare superfluo perché è in atto veramente una tragedia senza senza pari negli ultimi negli ultimi decenni perché ripeto è ancora diversa la guerra tra Russia l'Ucraina dove stavano tantissime persone ma sono tantissimi i soldati russi e ucraini che stanno morendo qua la morte di civili di civili si deve trovare proprio la guerra in Jugoslavia la guerra in Ruanda la guerra appunto ancora più indietro della seconda guerra mondiale le guerre in cui i civili erano proprio l'obiettivo il target degli stati o dei gruppi di resistenza o dei partigiani di liberazione i civili e questa è la distinzione tendenzialmente lo Stato nella seconda guerra mondiale ha fatto un massacro di civili gli stati hanno utilizzato i civili la Germania l'Italia fascista l'Unione Sovietica gli Stati Uniti gli inglesi i civili erano oggetto di massacro e sembrava una pagina in parte superata dalla storia invece dobbiamo fare ancora una volta i conti con la forza la potenza l'egoismo la stupidità l'avidità la violenza appunto dell'essere dell'essere umano dell'essere umano